C'è sta una al ristorante arriva al cameriere e gli fa ecco i suoi spaghetti e i frutti di mare e questo guarda gli fa cameriere scusi ma dentro le vongole il frutto del mare non c'è sta dice vabbè come se le porto la torta della nonna che c'è sta la nonna dentro beh in effetti c'ha ragione ieri ho preso i spaghetti a puttanesca e tu sorella non c'è sta